Pasquale Vaiona, arriva il primo punto storico di questo gruppo nella massima serie? Sì, ce lo prendiamo, ci godiamo il momento, siamo felicissimi chiaramente perché il primo punto in Serie A per una squadra di ragazzi under 18 ha tante soddisfazioni però a fine partita ho detto ai ragazzi di festeggiare perché è giusto ma di volare basso perché sono convinto che il cammino sarà lungo e con tante curve pieno di insidie Caratteristica di questo gruppo è il non mollare mai perché in un paio di occasioni sotto di 5 reti ha avuto la forza di recuperare e di rientrare in partita fino alla fine, fino a quel tiro franco finale Il nostro obiettivo è quello di fargli capire come ci si comporta in campo, nello sport cosa deve fare uno sportivo e io penso che uno sportivo finché l'arbitro non fischia la fine deve avere la voglia di provarci in più questi ragazzi hanno 17-18 anni, ci mancherebbe che non abbiano voglia di lottare fino alla fine oggi sono stati veramente super in difesa, abbiamo fatto il break quando la mia squadra è rimasta in uno in più Cassano ha preso due minuti, siamo stati veramente bravi in difesa adesso analizzeremo la partita, gli farò vedere le cose buone che abbiamo fatto l'attacco diciamo che è sempre stato abbastanza fluido dall'anno scorso e anche all'inizio di quest'anno avevamo qualche problemino in difesa, oggi penso che sia andato tutto veramente bene Soprattutto il comparto dei terzini quest'oggi in fase conclusiva perché Manolovic lo conosciamo ma Zanon è stata una vera sorpresa di questa partita Cristian sono convinto che possa fare molto di più, soprattutto nel primo tempo non ha giocato ai suoi livelli, poi è venuto fuori nel secondo ma la squadra ha bisogno di lui lui lo sa che è protagonista, deve essere protagonista e quindi deve fare di più mentre Marco oggi mi è piaciuto come è sceso in campo, ho dimostrato di avere carattere di poter giocare a questi livelli e ora il suo obiettivo è quello di avere continuità Mister, di solito quando le partite vanno avanti punto a punto e si decidono nei secondi finali nell'analisi bisogna cercare di capire quanti sono i meriti di una squadra e quanti dei meriti dall'altra lei come l'analizza questa partita? Buongiorno, l'analizzo come l'analizza? Caldo ti dico complimenti intanto ai ragazzi del campus che hanno fatto un'ottima partita noi abbiamo tanti demeriti, questa vittoria nasce anche da, soprattutto da, secondo me senza nulla togliere i ragazzi che hanno, ripeto, giocato una grande partita nasce da nostri sbagli Se lo aspettavo un campus così? Sì, ci aspettavamo una squadra organizzata, una squadra che corre sicuramente sapevamo che era un campo difficile, che comunque i ragazzi qua corrono tanto non hanno niente da perdere, le situazioni non erano ottimali, giocare la mattina non siamo abituati ma queste sono tutte scuse, penso che bisogna fare i complimenti ai ragazzi del campus e noi dobbiamo registrare qualcosa Avete sofferto soprattutto le conclusioni un po' dei terzini degli esterni del campus Italia con Zanon e Manuelovic insomma che sono stati tra i mattatori un po' per quanto riguarda il campus Italia Sì, sicuramente sapevamo che loro, devo dire che hanno due terzini molto pericolosi dalla distanza avevamo visto anche qualcosa di questi ragazzi a quanto pare penso di avere anche grandi responsabilità su questa partita perché non sono riuscito a trasmettere l'entusiasmo e la voglia di vincere la partita e anche a livello tattico a quanto pare non sono riuscito a mettere la squadra in campo nelle maniere migliori Primo punto della massima serie per questo gruppo giovanissimo Sì, siamo molto emozionati, sicuramente pure noi non ci aspettavamo questo risultato e cercheremo di andare a calcio ad altri punti e siamo molto felici della nostra crescita Al di là del lavoro di gruppo, di squadra, oggi tutti hanno giocato una buona partita però forse la differenza nel conquistare questo ottimo risultato questo primo punto della serie A è stato dato dagli esterni, dai terzini perché sia tu che Zanon insomma avete segnato un perpo di gol questa sera Sì, oggi Zanon era molto, veramente tanto in forma aveva veramente il braccio infucato poi io ho fatto qualche errore durante il primo tempo ma ci sta Savini, possiamo parlare di un risultato inaspettato questo? Sì, sicuramente non è il risultato che ci aspettavamo, che volevamo però per quello che si è visto in campo è sicuramente giusto perché non abbiamo giocato come volevamo e come dovevamo e bravissimi loro che ci hanno creduto fino alla fine ma la colpa è anche e soprattutto nostra per non averla chiusa e per non aver messo quel pizzico di cattiveria in più che ci vuole in queste partite Gara veloce, combattuta, un po' ad elastico in un paio di occasioni siete andati sul più 5 però il campus ha avuto la forza di rientrare sempre in partita insomma di lottare fino alla fine vi aspettavate un campus così, una squadra per quello che lo conoscevate in questo modo costruita e soprattutto in campo con questa voglia di lottare sempre fino al termine? Una squadra con questa voglia di lottare sì, ce l'aspettavamo perché comunque è un gruppo che è circondato da tanto entusiasmo si vede da fuori, si vede in campo stanno lavorando molto bene da più di un anno a questa parte quindi ci aspettavamo una squadra avversaria così con nulla da perdere come ho detto, è stata una partita con tanti alti e bassi siamo stati noi a non chiuderla nei momenti decisivi grazie Grazie.